Un'emozione diversa da quella che solitamente aveva uno quando entrava in campo, qui c'è un contatto più vicino con la gente e anche in questa occasione Firenze mi ha dimostrato il proprio affetto. Ringrazio Firenze come sempre, grazie Firenze vuol dire che effettivamente qualcosa di concreto ho dato nel vedere tutta questa gente.